Ciao a tutti ragazzi, qui è ForteGamer che parla, benvenuti in un nuovo video Oggi ragazzi, mia challenge nulla di nulla Semplicemente una piccola sorpresa, sia per me sia per voi in un certo qual senso Perché mio fratello ha deciso di regalarmi una Switch Volevo davvero giocare un sacco di recente ad Animal Crossing con un mio villaggio E per farlo mi serviva una Switch, ma non volevo prenderla Capite com'è? Non è molto usuale prendere Switch per un solo gioco Ma mio fratello ha pensato bene invece di farlo Quindi ragazzi vi lascio di seguito appunto la mia reazione al regalo Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di seguirmi su Instagram Su Instagram mi chiamo ForteGamer quindi mi trovate sicuramente Vi ricordo che ogni sera alle 9 siamo in live sul sito Viola Vi lascio il link in descrizione Nella sezione live streaming E niente ragazzi, quindi beccatevi sta reaction Ma non prima di un piccolo annuncio Ragazzi, volete giochi a prezzi scontatissimi? Beh, andate nella descrizione dei miei video e nella sezione social cliccate su questo link Andrete su Instant Gaming, un sito ragazzi dove ci sono giochi veramente a prezzi stracciati Ma non solo, potete neanche trovare abbonamenti del PSN e card del PSN a prezzi scontati Quindi mi raccomando ragazzi fateci un salto Ci siamo ragazzi Fortu Tutto questo è per te Non scherzo Vedi? Vedi pesa, non è una presa in giro No No, io ho l'altro colore, Fra Vedi, apri, aprila Aprila, vediamo Vediamo se è fake Dai, può essere uno scherzo, non si sa mai Eh, vedi, non lo so Se l'hai detto non lo è Vediamo, vediamo Eh, bene, bene, mi hai sgamato Vediamo, vai, vai Eh, ci sta Ci sta, è nuova, Fra È nuovissima Veramente nuovissima Ho fatto una spedizione Eh sì, sì, sì No, è nel periodo in cui spedivano ancora, l'ho presa Perché già da qualche giorno ti vedevo un attimino Tipo, ok Eh, col morale a terra E quindi ho detto, incomincia a prendergliela Non è neanche la light, è proprio quella Sì, sì, è quella col doc Ci possiamo pure fare video insieme Possiamo giocare senza problemi dalla tv Ci divertiamo un botte sti giorni La volevi, tempo fa Animal Crossing Esatto, dicesti, vuoi giocare a Mario Kart, vuoi giocare ad Animal Crossing Ed eccola qua Però adesso vogliamo l'unboxing professionale Allora, ragazzi, due Joy-Con Uno azzurro, l'altro rosso Andiamo a spedificare Non è rosso, eh Sono dal tonico Questo lo lanciamo Eh, lo sono anch'io Perfetto, vai No, vabbè Velocizza l'unboxing Quanto deve durare? La conosciamo ormai Vediamo un attimino Un po' più Nuovi rispetto ai nostri, i soliti Guarda, guarda Vabbè, poi ci sono ovviamente tutte le cosucce normali C'è il cosiddetto cane Che in realtà è il controller Quando metti? Sei contento almeno di sto regalo? No, no, non ti abbraccio perché se stai registrato No, a un metro di distanza Non esageriamo Mi raccomando, lavatevi spesso le mani Non uscite di casa E fate i regali ai fratelli che vedete giù di morale Esatto Non hai detto grazie? Prego Ma come prego? Grazie a tutti Ok ragazzi, quindi avete visto Veramente molto molto apprezzato Mi sfonderò di Animal Crossing Distruggendo tutta la mia produttività in generale nella vita Non mi vedrete più su YouTube Tanto che giocherò Animal Crossing Cazzo da parte Io vi ricordo di lasciare un like Di mettere un commentino Di iscrivervi Di seguirmi su Instagram Di seguirmi sul sito Viola Per non perdervi le live Di tutto ragazzi E ci si becca alla prossima Ciao